60.000 servizi di controllo e prevenzione dei crimini sul territorio con 1.400 arresti complessivi, 10.000 le persone denunciate. Questa è in estrema sintesi le cifre principali di un anno di attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ricordate dal comandante della consueta conferenza stampa di fine anno. Pier Melini ha ricordato i vari settori nei quali l'arma è stata impegnata maggiormente ricordando il ruolo attivo delle stazioni dei Carabinieri sul territorio come presidio di legalità e non solo. Quindi la sinergia con le altre forze dell'ordine e con la magistratura che ha portato di importanti risultati nel corso del 2014 dalla recente operazione criniera con la DIA al contrasto allo spaccio di stupe pacienti sulla Litorania con la Guardia di Finanza. Obiettivo puntato quindi sulle truffi a danno delle assicurazioni ad Amalfi e Pagani ed ancora al fenomeno dei furti che toccano la serenità dei cittadini. Grandi attenzioni da parte dei Carabinieri anche per la lotta alla violenza di genere e alla prostituzione minorile non. Importante anche l'apporto come ricordato da Pier Marini delle sezioni scientifiche per la risoluzione di diversi casi. Da non trascurare anche l'impegno per il controllo dell'ordine pubblico nel capoluogo e negli altri centri della provincia di Salerno oltre ai progetti per la legalità avviati nelle scuole per portare ai ragazzi esperienze su diverse tematiche dal bullismo ai pericoli di internet alla violenza di genere. Bilancio positivo che ha visto un apporto sinergico di tutte le componenti del comando provinciale, delle stazioni in primo luogo che ancora una volta sono state protagoniste di una significativa presenza come presidio di legalità sul territorio, delle compagnie del reparto territoriale di Nocera, delle componenti investigative, del nucleo investigativo del comando provinciale e delle compagnie. Un lavoro sviluppato sul territorio attraverso un'attività di prevenzione, oltre 60.000 servizi di prevenzione svolti nel corso dell'anno e una parallela attività di repressione che ha toccato un po' tutti i settori. Parrulli ha infine ribadito l'impegno dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine per assicurare un fine anno ed un inizio 2015 nel massimo della sicurezza possibile. Sono stati concordati una serie di servizi coordinati con le altre forze di polizia per assicurare nel capoluogo ma anche nel rimanente territorio della provincia una presenza costante a supporto delle esigenze che ci saranno e soprattutto per garantire un sereno festeggiamento da parte dei cittadini.